Tutto rinviato a oggi perché in Europa le divisioni restano, malgrado gli sforzi del presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno per arrivare a una esposta storica all'epidemia di Covid-19 con il più consistente e ambizioso pacchetto mai predisposto. Invece il fronte dei paesi nordici con Germania e Olanda in testa di firmare un assegno per finanziare debito comune europeo non ci sta e continua a ritenere sufficiente gli aiuti che verrebbero elargiti per 240 miliardi dal Fondo Salva Stati destinati ai governi, 200 dall'ABEI per le imprese e 100 del progetto SURE anti-disoccupazione. Ma Italia, Spagna, Francia e altri paesi in difficoltà considerano ancora insufficienti questi importi e capitanati da Parigi mirano a far approvare nelle prossime settimane un fondo europeo, una sorta di piano Marshall che mira a rilanciare gli investimenti da finanziare con debito comune attraverso l'emissione di recovery bond a 15-20 anni.